Salve, noi siamo l'Italia del Partito Democratico. E io sono l'Italia di questo governo. E a proposito della Social Card? Un aiuto concreto per i più deboli. Concreto? Ma è vuota. Ma davvero? Sì, un terzo sono senza fondi. Ma io ho la soluzione. Vi diamo in cambio una carta del Digitale Terrestre. Ma quelle sono a pagamento. E allora? Anche l'altra prima o poi l'avresti pagata, no? Il 6 e 7 giugno. Vota Partito Democratico. Grazie.